Si è conclusa dunque una requisitoria che ha impegnato giudici, imputati e avvocati in un processo che è giunto alla 118esima udienza. Nell'iscorso conclusivo, pronunciato all'aggiunto Giuseppe Pignatone, a fianco ai sostituti Maurizio De Lucia e Michele Prestipino, si precisa innanzitutto che il nome dato al processo, quello di Talpe, è riduttivo perché la vicenda è strategica e vitale per Cosa Nostra, soprattutto alla luce dei vari imputati stralciati, Guttadauro, Aragona, Messina Denaro, Giuffrè, Brusca e Provenzano. La faccia nascosta degli interessi della mafia nell'imprenditoria e nella politica, peculiarità di Cosa Nostra, aggiunge Pignatone. Michele Aiello, per l'accusa, è il protagonista organico della vicenda, la figura emblematica del diktat Ora dobbiamo fare impresa, di Bernardo Provenzano, il creatore, con le sue cliniche all'avanguardia, di un impero economico in cui la regione pagava le prestazioni dieci volte più del dovuto e che ha causato un danno di 80 milioni di euro in soli due anni ai danni dell'ASL 6, grazie all'azione di funzionari compiacenti. Poi c'è l'episodio della microspia che fu fatta ritrovare al capo mafia di Brancaccio, Giuseppe Guttadauro, un sabotaggio che ha vanificato anni e anni di indagini, continua Pignatone, proprio nel momento in cui l'imputato veniva eletto per la prima volta presidente della regione del 2001 e che negli stessi giorni faceva eleggere a Lars l'allora maresciallo Borzacchelli, segnalato e sostenuto dai cosiddetti amici di bagheria. Un contesto di affari, politica, tradimenti istituzionali che è andato avanti per tanto tempo e nel giorno delle accuse entra in ballo la difesa che ha presentato un'istanza in cui si chiede lo spostamento a un'altra sede giudiziaria perché a Palermo il clima non sarebbe più sereno. Ad esprimersi dovrà essere la Cassazione. Sono pochissimi i precedenti in materia ma la decisione della Suprema Corte dovrebbe arrivare in un tempo tra dieci giorni e due mesi. Nel frattempo il processo va avanti. Il presidente Vittorio Alcamo ha rinviato la discussione delle parti civili a martedì 23 ottobre. Solo nel caso in cui la decisione della Corte Suprema non arrivasse neppure entro la conclusione della fase delle ringhe difensive il processo dovrà essere sospeso fino alla vigilia della sentenza.